fatto io non me ne posso scappare no 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 che paura che paura mio dio e allora allora lui te lo e mostro e te ne dai hai detto alto ho visto una testa in basso sinistra chi è questa signorina io forse d'altra parte c'è anna ma donna che paura iniziamo già bene Ma voi vedete le mie mani Stai cercando di toccare Stai vedendo la mano Tocca la mia la mano Ma che schifo togliti Ok vado eh Pronto Ok ma io devo muovere per illuminare così Oddio è bellissimo Stiamo andando andiamo Andiamo Mi do qualche informazione Mi sta venendo a vomitare quando cammina Ma è bene Ma tu sculetti furi in qualche modo Vi spiego qual è la situazione Praticamente quando tu hai il VR Tu sei seduto Quindi il tuo cervello sa che sei seduto Però tu vedi che ti stai muovendo Quindi si confonde E ti viene da vomitare Eh ma perché tu Doveressi stare in piedi normalmente Vedo la casa sto andando E che cazzo fai tu Aspetta Ho rotto tutto Ho spento la luce Mio dio No È l'unica mia cosa Ma sai che fai paura Ma ti sei visto Eh no Sei tutto Strano aiuto Mi fate una foto di come dovrei essere No te la faccio con il cellulare Aspetta to Fermati Te l'ho già fatta prima Ok aspetta Mamma mia raga A parte che mi stanno sudando le palle degli occhi Guarda c'è È bellissimo Aspetta vediamo Ti stavo andando Sì Comunque in prima persona è flippante Ma parecchio Vabbè sono arrunciato un pochino No ma perché ora hai le mani a posto Solitamente ce le hai tutte alzate È vero Ma almeno sappiamo che funziona Se non altro L'ho chiusa io perché devi lasciarla così Se no non cammina La toncia dovrei tenerla tipo così Probabilmente Perché lui la tiene così Ma viene malissimo Ma che forte Perché sono più basso È ancora più chinato Aiuto Stai tipo strisciando Mi caduto Come mi alzo Oddio ma come sei messo Sei in uno degli scatoloni Aiuto Dai che ce la fai Ma se tu ti alzi dalla sedia Lui capisce che sei alzato Eh sì Però divento più Vedi divento più alto Il problema è che E poi non funziona più Perché ho le cose La telecamera puntata All'altezza della faccia Mi fa un caldo bestiale Qua sotto Ci sei? Dove sei? Vedo temperature di congelamento Eh sì bravo L'ho detto pure io quello Dai zitto E qua Lion ha una cosa importante da fare Eh Lui è qua Che facciamo? Lo aspettiamo? Forziamo il libro L'ho già fatto Io non me ne posso scappare No 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 Che paura Che paura Mamma mia Mio Dio Mio Dio Mio Dio Mio Dio Mio Dio Sono fuori Che è successo? Mio Dio Mio Dio Mio Dio Che paura Che paura No no Non giochiamo più Io voglio fare Che paura ragazzi Che paura Ma proprio da me doveva venire Non giochiamolo più Che paura Ma sei morto? Ma non lo so Non lo so Adesso eh No almeno me lo sono tolto per il tempo Perché era terribile Mio Dio No non è da fare I giochi horror non sono da fare È stato bruttissimo Perché mi è comparso Io l'ho visto camminare verso di me È tutto brutto Oscuro E poi Non puoi scappare Non puoi scappare Perché cosa fai? Vomiti se ti metti a correre Mio Dio Che paura No no Allora i giochi horror non si possono fare Oh grazie Ci voleva questa cosa Adesso non se ne va a fare Mi sono fatto male pure alla gola Perché ho urlato Mamma mia Perino Possiamo fare altri giochi In realtà virtuale però Ma non horror Non horror Sono un sacco belli Ma horror Bello era bello Eh raga Era bello Però da vedere Ma Forse è un po' troppo realistico Non pensavo però che succedeva una cosa del genere Ma proprio da me doveva venire Io pensavo venisse da voi Ma tu metti professionale Scusa Ma tiravamo tutti attaccati Anche Roblox si può fare inviarlo Sapete E potrebbe essere un'esperienza Ho fatto quello Anche Roblox si può fare adesso Informazione Non 들o un po' di